ma che cos'è questa cosa dalla suocera per il genero le fiabbe dei sogni e che cos'è questo strano coso ciao sono il sinus l'amico dei boni oggi vi voglio vedere come si fa la ricetta di pomodori secchi sott'olio ciao amici e benvenuti di nuovo al nostro video siamo qui con luciano non il sinus si ha preso sembianze umane e vuole farci vedere come si preparano i pomodori secchi sott'olio ciao sono il sinus quindi andiamo a vedere subito i primi passaggi e ce li spiegherà direttamente il sinuso no luciano ok primo passaggio mettiamo l'acqua nella pentola spiega un libro aggiungiamo l'aceto e portiamo a bollizione ciao 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 iscrivetevi al nostro canale ciao